buongiorno benvenuti da mondo mobiliare lecce oggi siamo a presice a due passi da santa maria di leuca estremo tacco d'italia vi presentiamo in vendita una porzione di palazzo storico che comprende un locale commerciale al piano terra cinque monolocali un grande appartamento al primo piano tre cantinette di pertinenza ed un grande giardino sul fondo della proprietà a servizio dell'intero immobile da questa bella corte comune si accede ai tre appartamenti del piano terra altri due al primo piano più un grande appartamento a livello superiore siamo nell'appartamento al primo piano ed è in fase di completamento si compone di un salone con doppia volta a stella due camere da letto ed una zona pranzo contattateci per venire a vedere questa proprietà o per maggiori informazioni ciao 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti.